E allora prendiamo la linea dalla nostra postazione con il grigio inquadrato Thunderman che occuperà la casella numero 7, l'ultimo ad entrare nelle gabbie. Si aprono in questo momento partiti i cavalli del Premio Roma edizione 2020. Dall'interno fa partenza Brazilian Man che si ritrova un po' di inerzia davanti, accompagnato al suo esterno da Presley Stex che di solito corre sui primi se è adeguata al ritmo dei primi due e se è posizionata proprio ai fianchi dello stesso Presley. Questi primi tre, in quarta posizione riconosciamo il grigio Thunderman e in quinta posizione invece l'altro Baptism che si lascia in coda Royal Iurius che ha preso la scia proprio dello stesso Baptism mentre Masterwin è comunque a contatto. Sette cavalli in circa tre lunghezze, il ritmo è abbastanza moderato con Stex che non vuole cedere al compromesso tattico e allora è andato a forzare la mano rispetto allo stesso Brazilian Man che comunque si mantiene in evidenza. Terza posizione all'interno per Presley, in quarta troviamo Baptism a precedere Thunderman e poi ancora Royal Iurius e Masterwin a chiudere il quadro dei partecipanti. Metà curva affrontata in quest'ordine, sempre Stex che comanda nei confronti di Brazilian Man, Baptism, Thunderman che ha guadagnato qualche posizione dall'esterno, trascinandosi anche Royal Iurius mentre Presley va di dentro, ha perso un paio di posizioni ma è comunque a contatto, Masterwin che chiude il drappello dei partecipanti. Dirittura d'arrivo con l'andatura che si sta incrementando, Stex con in sella Fabio Branca è subito affiancato da Brazilian Man, lo stesso Baptism che si mette in evidenza con Thunderman ancora più all'esterno, all'interno ci va Presley con lo stesso Masterwin che sta seguendo la scia di Thunderman, all'esterno di tutti c'è Royal Iurius che in questa fase però non sembra guadagnare, siamo a 400 dal palo con Thunderman che forza la mano e passa in leggero vantaggio nei confronti di Brazilian Man, all'esterno si concretizza la minaccia di Masterwin con Thunderman che ancora davanti, Masterwin che al suo esterno ci prova ma ci prova anche Brazilian Man all'interno, se la vanno a giocare questi tre con Thunderman al centro del cuneo attaccato all'interno da Brazilian Man, Masterwin che ancora ci prova con Thunderman ancora davanti nei confronti di Brazilian Man, Thunderman che vince il premio Roma e batte Brazilian Man, terzo, un eccellente Masterwin, vince dunque Thunderman con tore sulla sinsella, l'opera è pubblica, replica anche nel premio Roma, il training è quello di Alduino Botti, i colori sono quelli della scuderia, il Giglio Sardo, bene Brazilian Man rimasto in quota per il secondo, per il terzo Masterwin, per Thunderman si tratta della vittoria numero 8 in carriera, non era favorito, 7 la quota fissa generalmente proposta su di lui, con Tore Sulas che di forza reagisce agli attacchi portati al suo interno, approfittando anche della posizione predominante, dunque vince Thunderman su Brazilian Man, deludono i più attesi, in particolare Stex e Royal Julius, 7-2-3 l'ordine d'arrivo di questo premio Roma edizione 2020, la linea passa a Mario Berardelli. Grazie Grazie